In studio con me c'è la Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli, benvenuta. E sempre in studio c'è il Direttore del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano, benvenuto. Ben trovato. E in collegamento il Direttore del Tempo, Franco Bechis, benvenuto anche a lei Direttore. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, in queste ore a Bruxelles si confrontano almeno due posizioni sul sistema di aiuti dell'Unione ai paesi colpiti dall'emergenza Covid e dalle conseguenze economiche che questa emergenza ha causato. Ne parleremo tra poco perché io invece vorrei cominciare con la Ministra Castelli con il tema delle autostrade, che sembra aver trovato una soluzione dopo quasi due anni. E allora io vorrei chiedere questo al Ministro Castelli. I 5 Stelle all'indomani della tragedia di Genova dissero in maniera netta, chiara, lei appunto appartiene ai 5 Stelle, che l'unica ipotesi percorribile era quella della revoca della concessione ai Benettoni. La revoca di fatto, tecnicamente almeno, non c'è stata. Al netto di chi ha vinto o di chi ha perso la battaglia, le chiedo, lo Stato sarà in grado di gestire al meglio la rete autostradale? Intendo dire, non è che il prezzo del cambio di gestione delle autostrade cadrà in capo agli utenti, magari, non so, con l'aumento delle tariffe, per esempio? Beh, no, perché quello che abbiamo detto fin dall'inizio era che a posteriori, proprio per quello che è successo, una cattiva gestione che addirittura ha fatto molte vittime, era necessario accordarsi non solo su chi dovesse gestirlo, ma anche sulle condizioni, quindi tariffe che devono per forza scendere. E negli accordi questi temi ci sono. Per noi è stato importante togliere dalla gestione una famiglia che ha creato dei problemi non mettendo in manutenzione le strade per tanti anni. E quando si parla di un asset così importante come quello delle autostrade, lo Stato deve garantire la sicurezza, ma anche di poter gestire nel miglior modo possibile. Però sul fatto della revoca avete dovuto fare un passo indietro, perché la revoca sarebbe stata molto onerosa probabilmente. È anche lunga nella riassegnazione con una gara a due anni, ma per noi non è una questione chiusa, perché i tempi comunque dovranno essere celeri e se non saranno garantiti per noi la strada della revoca non è chiusa. Roberto, una domanda. No, ma diciamo la revoca, secondo me siamo ancora un paese che vive in economia di mercato, quindi bisogna almeno aspettare le sentenze. Io credo che il giudizio sulla gestione di autostrade sia un giudizio oggettivamente negativo. Tutti parlano del ponte di Morandi, nessuno parla di Avellino, dove ci sono stati 40 morti. Sì, quindi insomma siamo lì. Ma al di là delle responsabilità che anche in questo caso vanno accertate, c'è un tema. Cioè non c'è stata quell'attenzione alla sicurezza, il fatto di aver venduto le autostrade di montagna, quelle dove bisognava fare più investimenti, cioè in Abruzzo, la Savona Torino, la Pedemontana Lombarda, dà l'idea che hanno avuto una grande opportunità, ma hanno fatto anche bene per gli aeroporti, ma nella gestione della rete autostradale. Però il tema adesso è abbastanza strategico, si è evitata la deriva argentina, non è vero, tutto quello che si prende nel Benetton verrà pagato, quindi addirittura ci hanno messo questa cosa che non possono avere il dividendo i soci di Atalanta nei prossimi due anni, ma questo vuol dire che andrà nel capitale della società e quindi lo avranno fra qualche anno. Allora dico che forse anche per chi governa per i 5 Stelle è diventato un tema veramente decisivo, siccome tutte le reti sono in mano pubblica, diciamo di notte si sono rifatte le partecipazioni statali, avete gli uomini per guidare almeno le partecipazioni statali come furono nella prima stagione, non dico nella seconda che era diventata una conglomerata che ognuno sistemava i suoi. Mi permetta di dire che sulle partecipate dettano i numeri e noi abbiamo delle partecipate di Stato che sono fiori all'occhiello per l'Italia, ma per il mondo, ce ne sono moltissime, fincantieri, poste. Io credo che l'Italia sia riuscita in questi anni, noi abbiamo visto le nuove nomine, insomma è stato un governo che ha dovuto anche scegliere, i numeri di molte partecipate sono ottimi, io con Posti Italiani ho fatto reddito di cittadinanza, abbiamo lavorato su tantissimi cantieri, il ponte... Scusami, mi lo metto, perché volevo sentire un attimo Franco Begis proprio sul tema delle autostrade. Direttore? Sì, no io volevo fare una domanda, perché abbiamo detto più volte che le autostrade erano la gallina delle uova d'oro e in effetti hanno dato tanti dividendi al gruppo Benetton, ma non lo sono più, hanno perso 290 milioni circa di Euro nel 2019, anche per quel che è accaduto dopo il ponte Morandi e hanno dovuto fare i conti con l'emergenza Covid nel 2020 e secondo il loro bilancio hanno una previsione di perdita rifatturato tra 850 e 1 miliardo e 150. Il comunicato della Presidenza del Consiglio dice che dovrà essere pagato un risarcimento di 3,4 miliardi da parte però della società autostrade, non di Benetton. Ora se c'è la corsa a far entrare lo Stato dentro il capitale di autostrade entro la fine dell'anno, tutte queste perdite non pagheranno nulla i Benetton o piccola quota, ma peseranno sulle casse dello Stato. No, una parte dei risarcimento è già stata pagata, si tratta di rimettere a sistema un pezzo importante, non possiamo fare a meno delle strade e credo che tra gli asset strategici sia importante prevedere che ci sia un pezzo dello Stato proprio sulle strade, come altri asset che abbiamo e che in questo momento forse anche in maniera un po' più riflessiva rispetto ad altri momenti ci si è dovuti dire che cosa vogliamo fare di queste strade che non sono state manutenute. La scelta di vendere pezzi di autostrade che avevano bisogno di manutenzione di più rispetto a delle altre ha voluto dire che quella società ha cercato di fare più profitto rispetto a quello che avrebbe dovuto fare, questo non è permesso in uno Stato di diritto. Senta, quindi ritorno a Bomba, lei facendo i conti della Serva ci può in qualche maniera assicurare che non aumenteranno ad esempio le tariffe autostradali, proprio anche per i motivi che diceva Becchis? Sì, lo abbiamo messo nelle condizioni, per noi è vincolante questo, così come i risarcimenti, così come le manutenzioni, poi le manutenzioni vanno finanziate, ci mancherebbe, ma stiamo parlando del fatto che non si può fare a meno o vogliamo pensare di rischiare ancora come abbiamo rischiato senza saperlo tutti quanti su anche moltissime altre strade? Certo, certo. Allora, dicevamo in apertura che oggi è la giornata di Bruxelles, oggi e domani è la giornata di Bruxelles, il Consiglio europeo sarà una notte di lunghe trattative, rimane di fatto al momento una posizione di muro contro muro contro i due principali, tra virgolette, partiti lì a Bruxelles, cioè il partito dei cosiddetti frugali, paesi nord-europei e i partiti invece meridionali proprio sul quantum del recovery fund, ma anche sulle modalità di utilizzo dei fondi che verranno destinati ai vari paesi colpiti dall'emergenza Covid. Allora facciamo il punto con Alfonso Marrazzo, poi ne parliamo qui in studio. di quella che si sta giocando in queste ore a Bruxelles, dove se non si trova un accordo non ci saranno né vinti né vincitori, ma a perdere sarà l'Europa e la sua ragion d'essere. Lo sanno bene i contendenti, da una parte l'Olanda alla testa dei cosiddetti paesi frugali, i rigoristi, dall'altra i paesi dell'Europa del Sud, Italia, Spagna e Portogallo con l'appoggio della Francia, in mezzo da arbitro, ma non da spettatore, la Germania di Angela Merkel. A vedere le forze in campo non ci dovrebbe essere storia, ma gli olandesi giocano a tutto campo e minacciano il diritto di veto se i programmi nazionali che dovranno servire per ottenere le risorse del recovery fund non li soddisfano. I paesi del Sud cercano alleanze sempre più allargate, fanno sponda con Macron per ottenere sui piani nazionali un voto a maggioranza qualificata, cosa questa che metterebbe in un angolo i rigoristi. Il nodo è tattico, ma anche concreto, perché gli altri paesi puntano ad avere anche sconti sui contributi europei in cambio di un sì al recovery. In questo gioco, fatto di stop and go, di alleanze e sgambetti, è sempre più evidente il ruolo che assume la Germania della cancelliera Merkel per dimostrare ancora una volta la sua forza, tanto più ora che alla guida dell'Unione per sei mesi. Lasciare il segno nella storia, questo è l'obiettivo di tutti. Questa Europa, così com'è, deve trovare risposte efficaci, se non altro per i cittadini europei che se le aspettano. Allora, abbiamo sentito il gioco delle schermaglie che è in corso a Bruxelles, schermaglie che ci pagliono lontani anni luce perché invece, Ministro, la crisi adesso, l'esigenza è adesso. Adesso c'è gente che per mesi non ha potuto alzare la saracinesca, non ha potuto lavorare, quindi non ha potuto fatturare e che ha bisogno di un aiuto. Vedendo queste schermaglie e sentendo a grandi linee i tempi dell'Europa, non c'è da stare allegri. No, questo è il motivo per cui abbiamo fatto diversi decreti e siamo quasi a un terzo scostamento di altri 20 miliardi perché non c'è tempo e bisogna usare le risorse quando sono necessarie. Sì, però colpisce, diciamo, all'uomo della strada che l'Italia, che è un contribuente netto dell'Unione Europea ed è uno dei principali contribuenti, poi debba aspettare un anno e mezzo per vedersi riconoscere quello che l'Europa deve appunto ai paesi. Sì, dico di più con una schermaglia che nasce da paesi che hanno sconti sul bilancio che noi non abbiamo, oppure schermaglie che nascono dal fatto che qualcuno come Ruth oggi ha proposto una modalità di governance che è fuori dai trattati europei, tanto che il Presidente del Consiglio Conte ha dovuto ricordargli che sono regole fuori da quelle che l'Europa si è sempre dato. Siamo un po' oltre, addirittura hanno pensato di anticipare l'inizio delle restituzioni di due anni rispetto a quelle che erano state le prime valutazioni. Io penso che, insomma, da quello che stiamo seguendo, si riuscirà nelle prossime ore a far capire che se dobbiamo essere tutti solidali a un certo punto bisogna anche chiarirsi sulle modalità e le regole, perché nessuno sta chiedendo più di quello che si aspetta da un'Europa che si è resa conto anche dei propri problemi in questo Covid. E quindi alcune schermaglie che forse erano già presenti prima oggi si manifestano, ma sarebbe il momento di chiuderla. Franco Bechis, mi sembra che l'Europa abbia dei tempi che non siano veramente in sincrono con i tempi della vita normale, della vita di qualsiasi cittadino. Non è la prima volta, non è un unicum, ma continuando di questo passo però la distanza tra il percepito e quello che realmente è, insomma, aumenta o no? Sì, però ormai questo tempo è perso. A parte che volevo chiarire una cosa di prima, perché sennò ognuno dice la qualunque. Su autostrade non sono stati pagati risarcimento. Di 3,4 miliardi al 15 giugno sono stati pagati meno di 300 milioni. Sono stati accantonati, ma non pagati. Questo per chiarire. Però volevo dire, l'impegno dell'Europa è sulla costruzione del futuro. Quindi non hanno mai pensato di intervenire per tamponare la crisi attuale. Tant'è che l'hanno chiamato next generation perché deve essere investimento. Ma nel frattempo la generazione attuale che fa? E' triste pensare che... Anche la next generation. No, è quello, finora è stato necessario. Tutti gli interventi del governo italiano, gli 80 miliardi, e poi chiederemo alla Castelli se ne arrivano i promessi altri dieci che sarebbero serviti in un decreto luglio-agosto, non si capiva la tempistica. E sono stati tampone, perché purtroppo altro non potevano essere. C'è la più grande manovra che l'Italia abbia fatto nella sua storia, non ha nemmeno un euro investito sul futuro. Quindi sono importanti quei soldi invece investiti sul futuro. Perché comunque dovremmo ricostruirlo quel futuro. Perché quello che si è perso quest'anno si sanano le ferite per quel che è possibile. Ma ripartire è importante per tutti. Poi, certo, pensare di farlo senza nessuna condizione è un po' utopistico. La trattativa è su quello, perché altro non si può fare. D'altra parte, se te li regalano qualche condizione... Non è che ce li regalano. Io voglio dire solo una cosa, come io condivido tutto quello che ha detto Franco Becchis, soprattutto sulla vicenda autostrada, vorrei chiarire una cosa. Le reti, quando parliamo di Eni, Enel, Terna, sono state scelte illuminate, scelte consapevoli di gestione. Dove sta intervenendo il governo Conte sono scelte determinate dal fallimento dei privati. Per esempio, a me non sono piaciute le nomine in Alitalia, e spero che non siano dello stesso livello le nomine in autostrade. Per quanto riguarda questo perché, io non sono affatto contrario alle società a capitale pubblico di mercato e credo che sia una grande sfida che lo Stato in economia ragioni non da Stato padrone ma da Stato imprenditore. Però bisogna scegliere persone per... Quando riguarda Europa e Italia, voglio essere molto chiaro, io non sono affatto spaventato dall'Europa, abbiate pazienza, io sono spaventato dall'Italia. Aveva ragione Franco, noi stiamo confondendo due piani diversi. La risposta sulla liquidità tocca al governo della Repubblica Italiana. Il decreto rilancio è passato da 48 articoli a 68 e richiede 155 decreti attuativi. Una macchina pubblica che per fare un intervento, di pronto intervento, come la liquidità, utilizza vecchie norme bizantine, moltipica le burocrazie, fa 155 decreti attuativi, non sta facendo il bene del Paese. Io voglio dire, questo deve essere molto chiaro, quindi il governo Conte ha fatto delle scelte importanti sulla gestione dell'emergenza sanitaria, ora c'è un'emergenza economica che è nettamente superiore a quella dell'emergenza sanitaria. Se il pubblico impiego non torna a lavorare, l'economia non riparte e rinviamo. Con la scuola non sappiamo nemmeno se riusciremo ad aprire a settembre. Per quanto riguarda la liquidità e il decreto rilancio, siamo in mano alla burocrazia, francamente non lo so da come ha potuto sopravvivere, senza interventi chiari per chi bisogna cambiare. Allora io dico che, io sai di cosa spero? Spero che l'Europa questi soldi ce li dia con tanto di vincolo e con tanto di condizionalità. Perché è l'unica speranza che abbiamo, che ordini all'Italia di fare l'alta velocità ferroviaria nel mesogiorno, se no continuiamo con l'elenco delle priorità della ministra De Micheli dove si fanno gli studi di fattibilità al sud e le grandi cantine al nord. Roberto, perché ho visto il ministro e quando tu dicevi questa cosa ha fatto un viso, diciamo, un po' contrariato. Il decreto rilancio mette 55 miliardi su cose che servono per interventi immediati e per futuri. Le assicuro che i decreti attivati li abbiamo fatti nelle notti, senza perdere un secondo e le posso raccontare di cose molto innovative, tipo la modalità che abbiamo utilizzato per dare le risorse del fondo perduto. Guardi, venga con me all'Agenzia delle Entrate a vedere il sistema che abbiamo messo in piedi per dare immediatamente con un dato scambiato tra l'Agenzia delle Entrate e i commercialisti e i consulenti del lavoro che ha permesso immediatamente di far arrivare i soldi sui conti correnti. Guardi, l'Europa chiede a noi, non è così, però è giusto lo sforzo, non è giusto il risultato. Posso dire una cosa? Io ho 33 anni e mi sono trovata in una macchina, che è quella burocratica, molto lenta, che delle volte si crea delle burocrazie per rallentare la spesa di alcuni soldi. Io quello che ho promesso a me stessa durante... È un buon riconoscimento aver detto questo. Io quello che ho promesso a me stessa durante questa crisi è che qualunque cosa avesse incontrato di lento che potevamo innovare sarebbe diventato la nuova regola. E questo stiamo facendo, per questo è uscito questo decreto semplificazione. Rimette in sesto quello che andava spinto, andava velocizzato e che abbiamo trovato molto lento. Non è che è nato tutto lento il giorno che è cominciato il Covid. Vi fermo un momento perché la regione, come sappiamo tutti, più colpita dal coronavirus e quella che è anche la regione più produttiva d'Italia è la Lombardia. La Lombardia che fatica a riprendere proprio perché è stata la regione più colpita. Colleghiamoci con Stefano Pumagalli a Milano che ha anche un ospite. Stefano, a te. Sì, buonasera. Io mi trovo a Milano. Sui Navigli con me c'è Roberto Galli che ci può dare un po' il polso della situazione economica in questo momento perché è presidente di un'associazione commercianti che rappresenta più di 100 attività qui nella zona dei Navigli e un ristoratore a sua volta. Voi, chiedo a Galli, avete denunciato cali di fatturato di più dell'80% che ancora adesso continuano. E allora, le chiedo, quali sono i vostri principali problemi? Buonasera, viceministro. Buonasera, direttori. I problemi che noi incontriamo sono molto pratici. Il calo dell'80% che stiamo purtroppo vivendo è determinato dalla mancanza di clientela. Di giorno lo smart working ha tolto le persone dagli uffici che non escono più per andare a pranzare. E la sera, la gente che anche questa sera vedete in giro qua sui Navigli, è gente che passeggia. Ma se inquadrate con la telecamera ai tavoli dei ristoranti li vedrete vuoti. Abbiamo una necessità immediata di aiuto. Il nostro è un sincero segnale di allarme. Per noi l'allarme e la situazione di emergenza Covid continua a rimanere ed è prettamente di carattere economica. Non abbiamo purtroppo ricevuto degli aiuti così sufficienti a poter proseguire il periodo che si presenta di fronte a noi del dopo estate. E siamo molto molto intimoriti di fronte alle scadenze delle tasse, alla impossibilità di proseguire con gli ammortizzatori sociali e ovviamente il discorso degli affitti per esempio che non sono cambiati di 100 euro. Le faccio una domanda Galli. Ci sta sentendo il Vice Ministro. Si parla spesso di semplificazione per quanto riguarda la burocrazia e le procedure anche per ricevere aiuti. Ma voi di queste semplificazioni ne avete beneficiato? Avete visto qualcosa che si è effettivamente semplificato? Allora io ritengo che i processi di erogazione degli aiuti siano stati vincolati purtroppo da situazioni preesistenti probabilmente ma che comunque si sono dimestrati estremamente negativi per noi. Quindi niente è migliorato. C'è l'opportunità. Mi pare una cattiva sintesi. Grazie Stefano, grazie al tuo opere. Da Milano, grazie a voi. Sono cose molto circostanziate, molto chiare. Anzi, le voglio aggiungere un'altra cosa. Ma l'ipotesi che c'è forse ancora allo studio di prolungare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza nel nostro paese. 31 dicembre prossimo. E' stato prolungato le misure anti-covid fino al 31 luglio. Fino al 31 dicembre si parla di questo. Ma c'è il rischio che dia l'ammazzata finale alle piccole imprese come quelle che rappresentava il signore? Se ne sta parlando e i capi delegazioni, il governo sta decidendo se spostare e di quanto spostarlo. Il decreto di semplificazione è stato bollinato poche ore fa, giusto per dirlo. In merito alle cose che diceva il signore? Sono chiaramente molto interessanti ma non sono lontani dalla nostra vita, siamo persone normali anche noi. Anch'io scendo sotto casa e chiedo al Barista che cosa ha vissuto e cosa abbiamo fatto. Lo so bene nel rilancio, comunque lo voglio ricordare, sugli affitti, sulle bollette, sul fondo perduto. Sono stati dati misure importanti. E guardate che dall'estero ce lo riconoscono. Poi non è abbastanza, facciamo un altro scostamento di altri 20 miliardi a breve dove rifinanzieremo quello che serve per la cassa integrazione e più degli aiuti. Però una cosa me la faccio dire. Questa crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone hanno cambiato il modo di vivere e bisogna tenerne conto, bisogna aiutare le imprese, gli imprenditori creativi a muoversi sui nuovi business che sono quelli che sono nati, perché ce lo possiamo dire, che sono nati diversi. Sono processi di lungo termine, Ministro. Quale l'emergenza è troppo dura. No, certo, l'emergenza, ma se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra attività, a non perdere l'occupazione. E va sostenuto anche nella sua creatività, che magari ha visto che c'è un nuovo business che può affrontare. Io credo che negare il fatto che questa crisi abbia cambiato la domanda e l'offerta di questo Paese, ma proprio in termini macroeconomici, sia un errore. Vanno aiutate le imprese, sposteremo alcune scadenze, come quella di settembre, per recuperare quello che è stato sospeso. Abbiamo sospeso 13 miliardi di tasse, abbiamo cancellato una rata dell'IRAP. Quello scostamento, una parte, servirà anche per cancellare alcune tasse che gli italiani non pagheranno più. Bene, siamo in chiusura, però io aggiungo una cosa, mi pare proprio notizia di oggi pomeriggio, che è saltata la proroga delle scadenze fiscali di luglio, diciamo. E questo non va proprio nella linea di dare una mano a chi sta in difficoltà. Noi abbiamo spostato quelle di giugno a luglio, qualcuno chiedeva fosse a settembre, sono tanti miliardi. Ripeto, abbiamo sospeso 13 miliardi che saranno pagati da settembre, ma noi li sposteremo ancora. Stiamo parlando di quelle tasse che riguardano la produttività, quindi chi ha ricominciato a lavorare paga ritenute e contributi. Grazie, grazie a Laura Castelli.